Il 9 gennaio, presso il nuovo Regina Margherita della ASL RMA, è stata inaugurata la risonanza magnetica alla presenza della governatrice Renata Polverini e del direttore generale Camillo Riccioni. La dottoressa Paola Cerro, direttore del reparto di radiologia, ha avuto modo di presentare la nuova strumentazione. Con l'attivazione della risonanza magnetica, il reparto di diagnostiche per immagini già a livelli di eccellenza permette di dare una risposta a 360 gradi nel campo della diagnostica per immagini a tutti i cittadini, facendo diventare sempre più il nuovo Regina Margherita un modello di sanità di riferimento non solo della ASL ma anche della sanità romana. L'inaugurazione è stata anche l'occasione per il direttore generale e la governatrice di ringraziare gli operatori tutti per l'impegno e la collaborazione professionale dimostrata anche nelle situazioni di difficoltà.